Oh, si oh oh! No, dammelo! Ma vedi che c'è l'egoismo! Mi piace giocare all'attacco. Uso solo l'analogico destro. Mi piace giocare in FIFA, però purtroppo perde sempre. Poca fantasia, ma tanta concretezza. Dai, ci siete voi? Dai eh. Facci mollare un po' giù. Oh, ma che è? No! Eeeh! 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 Oh! Ma guarda il tattico! Eeeh! Eeeh! Buona partita, però adesso dobbiamo far entrare qualcuno di fresco. Questi sono gli sportivi, però eh. Vincere! 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 Bravo, bravo! I testi al contrario, Gianni. Oh, ha già vinto, lui è forte. Vai, giochiamo? Uh! Bravo, bravo, GG! Oh! Oh, buona! Ti tocco! Una partita senza emozioni, però. Oh, Luca. Tanto l'hai già vinto. Ecco. Non ti bufate. Non ti sta dentro. Ma chi è? E' che tu sono io! Oh! Sì, ma io c'è uno tre che mi tifan contro qua, oh! E' rigore, eh. Mi dirba, non sono buono. Sì! Sì! No, non mi guardare. Ti ho guardato? C'è te che guardi. E' Vincere! E' Vincere! E' Vincere! E', eh, 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 eh! E' Vincere! Uh! E' Vincere! Un disastro! Un disastro vero!